Presidente, le chiedo subito un'impressione su questo campionato che è eslittato, su questo caos che un po' c'è a livello di compilazione dei calendari. Qual è la sua valutazione? La valutazione è che credo onestamente che si potesse aspettare un paio di giorni prima di fare tutto perché visto che era stato annunciato il ricorso al Consiglio di Stato si poteva attendere un paio di giorni e magari si evitava di arrivare nel caos come siamo adesso. Però si è deciso così, adesso aspetteremo il 25 ed è chiaro che se dovessero rientrare le due escluse saranno 62 squadre in Serie C e si dovranno rifare i gironi. La scelta del Girone C potrebbe non essere definitiva per il Pescara? Io credo che non sia giusto che ci sia un Girone a 22 così. Dunblè, credo che sia giusto capire anche quale dei tre gironi deve essere a 22. Sul fronte mercato è evidente che la squadra vada rinforzata a centrocampo. A che punto siamo? Tanto i nomi che girano sono quelli di Ghion, si parla anche di un ritorno di Palmiero, Tencorang e quant'altro. Ma io è evidente che deve essere rinforzata a centrocampo, non lo so perché comunque sia... Oggi il mister ha fatto giocare un po' tutti, domani farà la stessa cosa, i giocatori sono arrivati e qualcuno arriverà. Per numero dobbiamo fare almeno un paio di giocatori, quello sì. Però non perché quelli che sono arrivati non sono all'altezza, quelli che sono arrivati sono bravi tutti e credo che quest'anno con questi ragazzi potremmo divertirci perché partiamo a fare i spenti con una squadra che è rinnovata per parecchio, anzi quasi per intero e quindi bisogna avere pazienza e bisogna avere il tempo per lavorare. L'ultima battuta sull'uscita eventuale di Veroli, si è fermata questa trattativa col Cagliari, c'è anche il Benevento, a che punto siamo? Ma dicevo il tuo collega, non c'è fretta per Veroli, non c'è questa volontà di togliere Veroli perché è un giocatore che a noi piace tantissimo, se dovesse capitare un'opportunità che va bene a noi, che va bene al giocatore, la valuteremo, altrimenti sta bene dove sta Veroli.